Come cambia il linguaggio dei nostri ragazzi? Hanno inventato un nuovo gergo con parole accorciate al punto da diventare incomprensibili. Carlotta Manu. Invece di dire come, di scrivo cm. Perché? X, K. O, non, n, n. Andiamoci, ci capiamo meglio, ci capiamo prima. I caratteri usati sono la metà di quelli impiegati per una corretta frase in lingua italiana. In realtà le lettere apparentemente incomprensibili sono un vero e proprio codice. Ecco qualche esempio. P-R-P-X significa proprio. A-N-K anche oggi diventa G-G. Sono si scrive semplicemente S-N. C-M invece sta per come e C-S-I è così. Tra i simboli più conosciuti, X-K al posto di perché, tra i più nuovi, A-B puntato per abbastanza. Secondo me esiste una repubblica indipendente dei 140 caratteri. Mi spiego. Gli sms, i messaggini, twitter, ma ci mettiamo anche facebook. Sono luoghi dove uno può scrivere come vuole. La scrivo così, quando scrivo davvero, quindi un'email, un compito, un tema, una relazione. Quando scrivo, scrivo in un altro modo. Ricordiamoci che nella lingua comanda sempre l'uso. Manzoni ha cominciato a scrivere gli per dire a loro, ormai è accettato da tutti. Se gli esperti li assolvono, il problema resta per i genitori. Tempi duri per chi volesse sbirciare le conversazioni sui telefonini dei propri figli. Vanno a senso unico. Ognuno dice la sua, ma nessuno si capisce. E allora, ecco qualche suggerimento. Se trovate questa lettera, aprite gli occhi. La J sta per joint, ovvero lo spinello in inglese. LOL invece non è pericoloso. Significa semplicemente lot of love, tanto amore. Vostro figlio sarà forse semplicemente innamorato. Grazie. Grazie.